Giornata intensa nel Consiglio regionale di oggi, la consigliera epidemica Elavitri ha presentato assieme ai colleghi Andrea Biancani, Anna Casini e Antonio Mastrovincenzo un'interrogazione diretta all'assessore regionale Salta Martini per approfondire la questione relativa alla sospensione dei due lotti di AstraZeneca da parte della regione Marche. Chiedo all'assessore regionale alla sanità Salta Martini di riferire esattamente con un report in modo trasparente senza creare allarmismo qual è la situazione perché molte persone che hanno ricevuto la prima dose dei due lotti inizialmente sospesi AstraZeneca sono insegnanti, personale dei tribunali, molti appartenenti alle forze dell'ordine, vigili urbani, carabinieri e alcuni di loro probabilmente sono preoccupati per i sintomi manifestati. Vogliamo un report preciso quindi sulla situazione che c'è al momento nelle Marche. Sappiamo che da ieri sono sospese tutte le somministrazioni AstraZeneca e questo mi pone di fronte anche ad altre domande. Viste comunque le eventuali possibilità che ci siano dei rischi legati appunto al rischio trombosi, io mi chiedo a questo punto perché non sono stati conservati i vaccini Pfizer per le persone più a rischio come gli ultraottantenni. Sappiamo che sono state utilizzate 20.000 dosi di Pfizer per personale amministrativo non sanitario quindi persone che lavorano in smart working al computer probabilmente anche giovani che hanno avuto dosi Pfizer e invece l'AstraZeneca è stato tenuto da parte per gli ultraottantenni. Perché non sono stati fatti questi calcoli? Poi la richiesta di vaccini urgente anche per altre categorie finora secondo Vitri dimenticate. Io chiedo che tutto il Consiglio regionale e mi auguro all'unanimità davvero abbia la sensibilità giusta per inserire nel piano vaccinale quattro categorie dimenticate che invece hanno bisogno di vaccino in via prioritaria, sono i disabili e i loro assistenti, la fascia di docenti tra i 65 e i 67 anni di età che non è stata considerata per un vero e proprio errore di calcolo nel piano, così come tutti gli operatori scolastici madrelingua, tecnici che ancora non sono stati inseriti nel piano vaccinazione, gli studenti di medicina che sono in ospedale a contatto con i malati e invece non possono usufruire della vaccinazione. Quattro categorie a rischio che devono essere inserite subito nel piano vaccinazione. Aggiungo solo che per i disabili si è creata anche una situazione di grave disparità perché solo quelli che frequentano i centri di urni di titolarità ASUR hanno avuto la prima dose di vaccinazione. Tutti quelli dei centri di urni comunali o privati no. È assurdo giocare sulla pelle dei disabili e quindi creare questa disparità. Grazie.